buongiorno dal canada notasavaga in resort dove il frosinone è al terzo giorno di ritiro la formazione di moreno lungo sta svolgendo una seduta mattutina qui sono le 10 e 30 ora locale e oggi pomeriggio disputerà la prima amichevole di questa sua tournée l'incontro si giocherà le 19 e 30 nella vicina toronto come possiamo vedere dopo le prove tattiche di ieri il tecnico oggi sta lavorando sulle palle inattive i canarini sono tutti presenti alla seduta soltanto lorenzo ariaudo sta lavorando in palestra ma è praticamente pronto al ritorno mentre se riusciamo ad inquadrarlo c'è daniel ciofani che corre intorno al campo anche daniel è vicino a potersi riunire al gruppo sicuramente ci vorrà un po più di tempo rispetto a quello che servirà ad ariaudo la michele del frosinone è programmata alle ore 19 e 30 locali quindi notte in oltrata in italia e sulla stessa vi aggiorneremo domani per il momento è tutto qui dal notasawaga in resort